Grazie per essere venuto con noi ad Amsterdam al Wine Professional. E' questa la tua prima esperienza al Wine Professional? Sì, per me è la prima esperienza al Wine Professional e sinceramente trovo che dia grandi frutti per quanto ci riguarda. Noi al momento siamo già importati in Olanda, quello che abbiamo potuto riscontrare è sicuramente un grande interesse da parte del pubblico, un pubblico assolutamente composto da professionisti, persone già molto ben educate su quello che è il vino, in particolare il vino piemontese e alcuni già conoscevano il nostro marchio. Ma allora è stata un'ottima esperienza, è molto positiva, ritornerai con noi? Spero proprio di sì. Noi noi ci contiamo, ciao! A presto.